Notte bianco-rossa alla Vitifrigo Arena, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro batte Milano 88-83 e si regala un'altra partita, dinnanzi ai propri tifosi. I ragazzi di Coach Repe già vanno contro ogni pronostico, giocano con determinazione e vincono gara 3. Quando tutto sembrava ormai perso, ecco una grande risposta alle prestazioni da incubo in gara 1 e gara 2. Appuntamento a domani sera, ore 20 e 30, sempre alla Vitifrigo Arena, dove il supporto del pubblico pesarese ovviamente non mancherà. Una vittoria meritata, una vittoria che ha confermato che questo gruppo è stato bene quest'anno con qualche problemino durante l'anno, un spettacolo vero, vorrei sottolineare questa cosa, spettacolo vero perché partita tiratissima, la gente coinvolta ci ha spinto quando sono stati periodi molto molto, sotto virgolette difficili, quando sembrava che la partita andava a loro binari e ogni volta siamo riusciti a ritornare, a grappare e alla fine abbiamo vinto con pieno merito secondo me. Vediamo, sabato se non sarà pieno è veramente una delusione, ti dico subito adesso. Speriamo di avere un altro spettacolo, da mia parte posso solo garantire che metteremo di nuovo tutto che abbiamo in questo momento, il nostro cuore, il nostro orgoglio, il nostro gioco, la nostra energia e tutto quanto per ripetere un spettacolo vero. Sarà basta vincere, vediamo perché sappiamo che giochiamo contro una squadra che va favorita, che è costruita bene, allenata bene, che gioca preparata bene per play-off, si vede, squadra più fisica ma la palla è rotonda e dobbiamo uscire sul campo l'unico obiettivo orgogliosi che abbiamo fatto tutto che possiamo fare in questo momento, stare insieme e competere, in competere, competere, competere 40 minuti.